Abbiamo dichiarato più volte che l'Unione Europea ha perso il suo fondamento pacifico e non ha alcun potenziale pacifico evidente da sfruttare. Forse qualcosa è rimasto in profondità, ma non vediamo nulla che possa essere reso operativo e utilizzato. Quindi una volta c'erano tempi in cui davvero l'Unione Europea, almeno a parole, cercava di promuovere una situazione pacifica e stabile, cercava di rafforzare qualcosa, di negoziare per obiettivi simili. Ora è evidente, lo vedete anche voi, cosa sta succedendo e quali decisioni vengono prese, quali documenti vengono firmati. L'Unione Europea ha virato verso la militarizzazione e conflittualità, servendo interessi di USA e NATO, non dei suoi cittadini. A Sebastopoli, dove nel pieno del pomeriggio domenicale c'erano molti vacanzieri con bambini, sono rimasti feriti 153 civili, tra cui 27 bambini. Sono morte 4 persone, tra cui 2 bambini di 2 e 9 anni. Il 28 giugno, nel villaggio di Gorodischi, nella regione di Kursk, un drone ucraino ha deliberatamente attaccato una casa residenziale, uccidendo 5 persone. È un'intera famiglia, inclusi bambini piccoli. A Primorsko-Aktarsk, il 5 luglio, un attacco con droni ucraini nei quartieri residenziali ha causato la morte di una bambina di 6 anni. Un bambino di 7 anni è rimasto ferito. L'11 luglio, a Shebechino, nella regione di Belgorod, i bambini che stavano giocando nel parco giochi sono stati vittime di un attacco barbaro da parte delle forze armate ucraine. Su di loro è stato deliberatamente sganciato un ordigno esplosivo da un drone. 5 minorenni sono rimasti feriti, uno dei quali è poi deceduto in ospedale. Questi recenti crimini sono una chiara testimonianza del carattere disumano, del regime terroristico di Kiev, che senza scrupoli combatte contro bambini indifesi. Oltre agli esecutori materiali e a coloro che hanno dato ordini criminali, complici nei crimini contro i bambini, sono anche i paesi del collettivo Occidente, che riempiono il regime di Kiev di armi mortali e pretendono dallo stesso regime di Kiev di combattere fino all'ultimo Ucraino. Sulla loro coscienza pesa la morte non solo di bambini russi, ma anche ucraini. La conferma di Ciovi è l'attacco dell'8 luglio, condotto con un missile guidato del complesso missilistico antiaereo norvegese contro lo stesso ospedale pediatrico. Sovrapponendo le manipolazioni e la messa in scena del Cipso ucraino, è ancora possibile distinguere un missile russo, K-101, da uno occidentale. R2R-120, un missile aria-aria, senza difficoltà. Le loro differenze sono state descritte in dettaglio il 17 luglio, durante una sessione del forum sulla cooperazione per la sicurezza dell'OSCE, nel discorso del rappresentante russo ai negoziati a Vienna, sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti. Il testo è una dettaglia, è arrivato, grandiosi sugetti del sito del Ministero degli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di produrre il risultato del briefing. I bambini uccisi non possono essere riportati indietro, così come non può essere restituita la tranquillità ai loro genitori e ai loro cari. Ma i loro assassini devono essere identificati e subiranno una dura punizione. Di questo si occuperanno le autorità investigative russe. Questi crimini barbarici non hanno e non avranno prescrizione. Uno degli obiettivi dell'operazione militare speciale è la demilitarizzazione. Privare il regime neonazista di Kiev della possibilità di colpire città pacifiche, causando morti e feriti. La popolazione civile, inclusi i minori. Questa missione sarà compiuta per il futuro dei bambini. E non dividiamo i bambini per nazionalità. Delle punizioni per i crimini del regime di Kiev bisogna parlare separatamente. I tribunali russi continuano a emettere sentenze, basandosi sulle prove del Comitato Investigativo della Russia contro i neonazisti ucraini colpevoli di gravi crimini contro i civili. Ad esempio, il militante Azov Filin è stato condannato a 26 anni per aver sparato a due civili a Mariupol nell'aprile del 1922. La Corte Suprema della DPR ha condannato in contumacia il militante delle forze armate dell'Ucraina Averjanov, che nel febbraio dello stesso anno aveva ordinato di bombardare i commortai delle residenze civili in un insediamento. Trekozbenka è a vent'anni di colonia. È stato condannato e dichiarato ricercato internazionale. Anche a vent'anni in contumacia è stato condannato un militante delle forze armate dell'Ucraina, Gasparian, che nel luglio del 2020 ordinò ai suoi subordinati la situazione intorno all'Ucraina, la crisi militare. Il 27 luglio, nella DNR sarà ricordata una data tragica. È un giorno tragico, è il giorno della memoria dei bambini vittime della guerra nel Donbass. È stato istituito con decreto del Capo della Repubblica l'11 luglio 2022. Nel 2014 il regime di Kiev ha dichiarato una vera e propria guerra per sterminare i civili delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk. In questo periodo più di 300 bambini sono stati uccisi e circa 1.000 feriti. Sono numeri spaventosi. Purtroppo il numero dei minorenni che sono morti per mano delle formazioni armate controllate dal regime di Kiev continua a crescere e non solo nel Donbass. In questo giorno ricordiamo anche le vittime innocenti di Belgorod, Kursk, Zaporojie, Kherson della Repubblica di Crimea e Sebastopoli. Coloro che sono morti o feriti per mano dei militanti del regime di Kiev. Il 23 giugno i militanti dell'esercito ucraino, ricordo, hanno colpito con missili la spiaggia cittadina. Kuchkuevka a Sebastopoli, dove in pieno giorno di domenica c'erano molti bagnanti con bambini. Sono stati feriti 153 civili, tra cui 27 bambini. Sono morte quattro persone, tra cui due bambini di 2-9 anni. Il 28 giugno a Gorodischke, nella regione di Kursk, un drone ucraino ha attaccato una casa residenziale, uccidendo 5 persone di una famiglia intera, compreso bambini piccoli. Il 5 luglio un attacco con droni ucraini su Primorsk-Aktarsk, nel Kuban, ha causato la morte di una bambina di 6 anni nei quartieri residenziali. È stato ferito un bambino di 7 anni. L'11 luglio, a Scebechino, nella regione di Belgorod, i bambini che giocavano nel parco giochi, sono stati vittime di un attacco barbaro da parte delle forze armate dell'Ucraina. Un ordigno esplosivo è stato appositamente sganciato su di loro da un drone. Cinque minori sono rimasti feriti, uno di loro è poi morto in ospedale. Questi recenti crimini testimoniano vividamente il carattere disumano del regime terroristico di Kiev, che senza alcuna esitazione. È una giornata tragica, è il giorno della memoria dei bambini vittime della guerra nel Donbass. È stato istituito con un decreto del capo della Repubblica l'11 luglio 2022. Nel 2014 il regime di Kiev ha dichiarato una vera guerra per l'annientamento dei civili delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Durante questo periodo più di 300 bambini sono stati uccisi e circa 1.000 feriti. Sono cifre terribili. Purtroppo il numero di minori, che sono morti per mano delle forze armate controllate dal regime di Kiev, continua a crescere. E non solo nel Donbass. In questo giorno ricordiamo anche le vittime innocenti delle regioni di Belgorod, Kursk, Zaporoggie, Kherson, della Repubblica di Crimea e di Sebastopoli. Coloro che sono morti o sono stati feriti per mano dei militanti del regime di Kiev. Il 23 giugno i militanti delle forze armate dell'Ucraina hanno colpito con attacchi missilistici la spiaggia cittadina. Kursk, a Sebastopoli, dove in pieno giorno di domenica c'erano molti vacanzieri con bambini. 100 persone sono rimaste ferite. La situazione in Moldova non è meno drammatica. La leadership di questo paese, intendo il regime Sandu, continua, e come dimostra la pratica, infruttuosamente, a fomentare l'isteria antirussa sperando di restare in piedi. Il 15 luglio il presidente Sandu ha dichiarato, ecco le sue parole. Sandu ha detto che l'obiettivo della Russia è portare al potere in Moldova coloro che vendono il proprio paese. Fine della citazione. In Moldova stessa tali affermazioni sono accolte con inconfondibile ironia. Gli studiosi locali notano che è ridicolo sentire ciò dai politici che portano avanti un corso per distruggere la sovranità moldava, l'indipendenza moldava, la statualità moldava e sino... e infine si... i cinesi sono rivolti alla lingua moldava. È divertente sentire tali dichiarazioni dai politici della Moldavia, del cosiddetto team di governo Sandu, che stanno trasformando la Moldavia in una colonia dell'Unione Europea. Eppure i fatti parlano da soli. Nel paese continua il processo di trasferimento delle risorse strategiche sotto gestione esterna. Il 17 luglio il ministro dell'economia della Moldavia, Mikhail Papshoi, ha dichiarato che ciò, ancora una volta accettato dallo Stato, non può che rallegrarsi dell'interesse della Romania nell'acquisizione dell'impresa statale Moldava Red Nord. Ricordo, questa è un'azienda che possiede le reti energetiche nel nord del paese. L'11 luglio il Parlamento moldavo ha approvato in prima lettura le modifiche alla legge sulla gestione e la destatizzazione, come detto, della proprietà pubblica. Su cosa attirano l'attenzione gli esperti? Sul fatto che oltre 50 imprese significative, inclusi oggetti di infrastruttura dei trasporti, sono state rimosse dall'elenco iniziale delle organizzazioni non soggette a privatizzazione. Ci sono fondate preoccupazioni che queste saranno cedute per un niente agli operatori rumeni. Il rafforzamento del regime filo-occidentale in Moldavia è evidente nella catastrofica situazione demografica. Secondo i primi dati preliminari del recente censimento, il numero di abitanti in alcune zone della Moldavia è diminuito dal 25 al 30%. Secondo le stime degli esperti, durante il governo di Sandu la popolazione del paese è diminuita di oltre 200 mila persone. È stato registrato il numero più basso di nascite negli ultimi due secoli. Continua a peggiorare la situazione socio-economica nella Repubblica. Secondo i dati ufficiali, a maggio 2024 il calo della produzione industriale in Moldavia è stato del 5,2% rispetto ai dati di maggio 2023. I piani dell'Unione Europea di destinare 10 milioni di euro a sostegno delle forze armate armene hanno senza dubbio calcoli geopolitici dell'UE per diffondere la loro influenza distruttiva in questa regione, cioè nel Caucaso. Siamo sicuri che mi sembra anche ovvio e si vede semplicemente. Ora non abbiamo intenzione di intervenire in futuro. Questo tra l'altro ci distingue dagli stessi Stati Uniti d'America e che, a quanto pare, letteralmente non riescono a rinunciare all'abitudine di interferire negli affari interni di altri paesi sovrani. E se parliamo in parole povere, ficcanasare negli affari altrui. Come già detto nella conferenza stampa precedente, il 26-27 luglio in Laos il Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, parteciperà alle prossime riunioni dei capi dei Ministeri degli Affari Esteri attraverso ASEAN in vari formati, Russia-ASEAN, i Vertici dell'Asia Orientale e il Forum Regionale sulla Sicurezza ASEAN. Ricordo che agli eventi imminenti la Federazione Russa intende esporre le proprie valutazioni della situazione regionale, compreso l'aumento del potenziale di conflitto dell'Asia Orientale sullo sfondo della linea occidentale per militarizzare la regione, introdurre il potenziale militare della NATO nella regione e espandere la rete di meccanismi a blocchi. Continueremo a promuovere la creazione di un modello equo e paritario di ordine mondiale in cui ASEAN sia il partner naturale dell'OCS e EAEU. Tutte e tre le organizzazioni lavorano in un sistema comune di coordinate per una cooperazione positiva, muovendosi verso il rafforzamento dell'interconnessione in varie direzioni. Durante gli eventi ministeriali Russia-ASEAN siamo in attesa di un dialogo concreto su tutta la gamma di questioni di interazione con l'Associazione in politica e sicurezza, nelle sfere economiche, sociali e culturali. Con il supporto di ASEAN continueremo a promuovere iniziative pratiche nel campo della sicurezza dell'economia internazionale e della sicurezza informatica che come sapete è una delle priorità russe in questa sede. Ma in realtà è una questione di stato sovrano, come costruire la propria difesa e da chi ricevere fondi? Ma ci sono cose che davvero ci preoccupano e ci toccano perché non è un fondo per la pace, si chiama solo così, è un fondo per la guerra e sponsorizza solo... Il malcontento per le politiche antipopolari del regime Sandu è chiaramente confermato dai sondaggi sociologici. Ora, secondo un recente studio d'opinione pubblica dell'Agenzia, Intellect Group, solo il 40% dei cittadini moldavi è d'accordo con l'inclusione nella Costituzione della disposizione sul percorso europeo dello Stato moldavo. L'80% dei cittadini moldavi è a favore della conservazione dei valori tradizionali della famiglia. Nonostante la propaganda antirussa attiva Sandu... La maggioranza dei moldavi non considera la nostra nazione una minaccia e sostiene le relazioni bilaterali. Noi condividiamo questo atteggiamento e riteniamo i moldavi i nostri amici. Le repressioni contro i moldavi pro-Russia a favore dei legami bilaterali mi sembrano superate. qualsiasi record mondiale, parlando della loro dinamica sul territorio della Moldavia sotto il regime di Sandu. Vorrei dire alcune parole sulla firma della dichiarazione di Pechino per il ripristino dell'unità interpalestinese. Accogliamo favorevolmente l'accordo. Il terzo punto. Forse è un altro tentativo, un tentativo di promuovere la cosiddetta formula di pace, che cercano inutilmente di imporre a tutti, coinvolgendo quante più nazioni possibili nel discuterne con pretesti falsi. O forse è una combinazione di tutti questi fattori. Ecco perché la vediamo così. Niente di nuovo nelle intenzioni del regime di Kiev e dei suoi curatori occidentali. Beh, possiamo dire riabilitarsi dal fallito cosiddetto summit della pace. Comprendiamo che questi tentativi continueranno. Dietro a ciò c'è il desiderio di imporre, come ho già detto, a un ampio numero di paesi la formula senza sbocchi di Zelensky.